Nessuno vuole escludere il lato sud di Corsovidio. La verità è che non posso collocare i banchi davanti ai negozi. Lo afferma Lucio Giambalvo dell'Associazione Area 51, organizzatore della fiera città di Sulmona, che risponde alle polemiche per l'assenza delle bancarelle nella zona di Porta Napoli. Qualche commerciante ricorda che la precedente amministrazione Federico aveva rivisto il regolamento delle fiere, prevedendo la sistemazione dei banchi anche nel lato sud. Per Giambalvo, però, per estenderla anche in questa parte di Corsovidio è necessaria una rivisitazione della planimetria. Così come adesso, dice, si andrebbero a collocare banchi a distanza di 50 metri. Non è assolutamente possibile. Se poi viene fatto, mi si dice che non vanno bene perché le bancarelle ostacolano le vetrine, che decidessero quello che vogliono fare. Sulle polemiche in merito alla qualità dei prodotti esposti, Lucio Giambalvo precisa che tutte le fiere sono così. Basta farsi un giro nelle altre località per rendersene conto. Se poi si vogliono fare fiere specializzate di settore, devono dirmelo con netto anticipo. L'organizzatore della fiera città di Sulmona intende mettere da parte le polemiche per guardare invece al successo che sta facendo registrare in termini di presenze. Ieri, conclude, ci sono stati migliaia di visitatori fino a luna perché questa è una manifestazione che richiama gente. La città deve ritenersi soddisfatta che in queste due giornate il centro storico è vivo. Questo è il dato importante.